Io ho avuto sempre la passione, anche da piccolino vengo da una casa di contadini, ero la disperazione perché di due martelli non se ne trovava mai uno. Poi dopo ho avuto occasione di conoscere un grandissimo personaggio, un maestro eccezionale, Augusto Bartolotti di Ravenna, che non l'ho mai visto lavorare. Io non ho mai visto lavorare un fabbro fino al 1995, tutto quello che ho imparato, cioè quasi tutto da solo. Lui mi ha trasmesso la passione, per cui lui mi diceva guarda che col ferro puoi fare questo, si può piegare così, poi quello, quell'altro. Lui aveva una mano d'artista fenomenale, lui da una lamiera ricavava il volto di una persona. Ma anche, oltre che trasmesso la passione, ha insegnato il valore di quello che è il materiale. Cioè, che il ferro è qualcosa di vivo, che il ferro è di infinite qualità. Noi vediamo certi lavori fatti nell'antichità o nel periodo, diciamo, del Rinascimento, è perché avevano un ferro di altissima qualità. Cioè, oltre che avevano tutta una tradizione di insegnamento di botteghe che era centenario, che si può considerare che al giorno d'oggi è andato tutto perduto, avevano anche un materiale che era indicato esclusivamente per fare certi lavori. L'idea non è mia, è su uno schizzo di Tonino Guerra, di fare le foglie cattedrali. Questa qui è la quarta che faccio. Ed è la prima che faccio in Corten, perché se deve essere esposta alle intemperie, il Corten ha la possibilità di... Si autoprotegge con un piccolo strato di ruggine. Dopodiché non fa più la ruggine.